Andiamo in campagna, buona serata alla Presidente della Camera Penale di Napoli Nord, Felice Belluomo. Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito come sempre. Allora abbiamo letto che, tra l'altro abbiamo visto anche una foto, quindi un'istantanea, che nel bellissimo palazzo in cui è situato il Tribunale, Palazzo Storico Architettonio, in cui è situato il Tribunale di Napoli Nord, gli avvocati però, a causa delle imitazioni anti-Covid, sono costretti a stare vicini vicini senza rispettare il distanziamento fisico e questo annulla l'utilizzo, seppur obbligatorio e rispettoso, della mascherina. I problemi strutturali determinano anche la vicinanza e impediscono il distanziamento fisico tra voi regali, avvocato? Allora, sicuramente la foto che è girata in rete, che poi tra l'altro riguardava il settore civile, e non il settore penale che mi vede interessato e impegnato quotidianamente, noi abbiamo dei problemi a Napoli Nord, quindi in dubbio negarlo. Però è sempre legato al solito discorso che io dico sempre in Italia, che si vogliono fare le nozze con i fichi secchi. Perché dico questo? Perché da cinque anni il Ministero, da quando è stato istituito il Tribunale di Napoli Nord, nel 2013 è stato istituito, nel 2014 è partito il Tribunale di Napoli Nord, che ricordo sempre, in ogni occasione nel quale ci vediamo, è il quinto Tribunale d'Italia per carico. Da cinque anni, dicevo, sono stati finanziati dei lavori per il cosiddetto aulario. Questo aulario non è stato mai costruito, non solo. I lavori non sono mai iniziati. Per cui è chiaro ed evidente che con l'utenza che ha il Tribunale di Napoli Nord, con la risposta di giustizia che i cittadini, perché gli avvocati vanno lì, non perché non hanno nulla da fare, vanno lì ad esercitare quelle che sono i diritti della gente nel settore civile a far valere quelli che sono i propri diritti. Ed è chiaro che in aule piccole come quelle del Tribunale di Napoli Nord può capitare una situazione come quella che è stata cristallizzata nella fotografia che poi è girata in rete. Il problema è sempre lo stesso. Ma queste cose al Ministero le sanno? Certo che le sanno. È certo che le sanno. Io ho saputo, voglio dire, che a pochi chilometri da qui, io le parlo da Aversa, dove ha sede il Tribunale di Napoli Nord, a pochi chilometri da qui, il Ministro Bonafede è andato, si vocifera perché era circolato in rete una fotografia di un topo che stava nei pressi di una concelleria, almeno voci di corridoio, e il Ministro ha fatto una visita a sorpresa. A Santa Maria Capovete. Allora io dico anche attraverso di voi, al Ministro, sorprendeteci, venite a Napoli Nord. Io sto sempre qui, come tanti miei colleghi, tutti i giorni siamo in Tribunale. Ci sorprenda il Ministro, risponda alle tantissime mail, ai documenti, alle richieste di aiuto e di invito che abbiamo fatto pubblicamente diverse volte, per fargli comprendere, lui è un iscritto, ho saputo che, diciamo, è un iscritto all'albo, non so in quale settore esercitava, prima di diventare Ministro, i termini del suo impegno nell'attività forense. È un avvocato che esercitava a Firenze. È un avvocato, mi dicono che esercitava a Firenze. Venga a Napoli Nord, venga a vedere, voglio dire, dall'alto della sua esperienza, come gli avvocati sono costretti ad esercitare la propria attività. Venga a rispondere, se trova dignitoso, le condizioni nelle quali sono gli avvocati, ma anche i cancellieri, i magistrati, tutti, perché poi, alla fine, quando noi abbiamo un'auletta che è di tre metri per tre metri, e ci sono cinque imputati, dieci imputati, collegi difensivi grossi, in aree che si è facili tacciare come terra dei fuochi, terra della criminalità, però in queste aree va data una risposta da parte dello Stato. E lo Stato spesso dimentica di dare queste risposte ai cittadini, seguendo soltanto il momento del populismo. Io l'ho invitato personalmente il Ministro, e lo faccio nuovamente, non più tardi, il 10 luglio, in occasione di una conferenza stampa di tutti i presidenti, che ci ricordiamo benissimo, con il nostro Presidente, l'Avvocato Cagliazza, abbiamo invitato il Ministro a Napoli Nord. Non è mai venuto, non ci ha mai risposto, quindi lo invito a venire ad Aversa. Tra l'altro, poche ore fa, ho parlato con il Presidente della Camera Penale di Santa Maria Capovettere, Francesco Petrillo, che ci diceva, al Ministero hanno un po' le idee confuse, perché hanno istituito il Tribunale di Napoli Nord, ma togliendo anche cancellieri e personale dal Tribunale di Santa Maria Capovettere. Capiamo che la coperta è corta, però come si fa in questo modo ad amministrare della giustizia se il personale di cancelleria amministrativo si toglie da un tribunale e si mette a un altro tribunale? Così non si amministra la giustizia. Non solo, ma io poi sento degli annunci, arriveranno mille nuovi magistrati in Italia, tremila magistrati. Il problema è che in un ospedale non si possono nominare mille nuovi medici se poi non c'è del personale sanitario che possa coadiuvare e sostenere quella struttura. Se non si arriva a capire questo siamo veramente all'ABC del funzionamento della macchina di giustizia, perché a Napoli Nord, oltre gli spazi, l'altro grosso problema è il sottodimensionamento della pianta organica amministrativa, per cui noi ad un ufficio che è il TIAP della Procura abbiamo un'unica persona e più volte io parlo personalmente in modo diretto con il procuratore, con il Presidente del Tribunale, che sono sempre disponibili, la cui porta è sempre aperta, ma mi dicono, avvocato, io se metto un'altra unità in questo ufficio, devo chiudere un altro ufficio. E infatti è proprio così. E allora voglio dire, poi voi avvocati mi lamentate che magari io chiudo l'ufficio del gratuito patrocinio, poi magari devo chiudere l'ufficio dei sequestri e ho l'archivio delle difficoltà ad accedervi. È il solito gioco delle tre carte alle quali il Ministero non risponde ormai da anni. No, ma risponde con i titoloni, dicendo prima dell'estate che sarebbero state assunte 11.000 unità nei tribunali italiani. Poi bisogna capire anche da dove le attingiamo queste 11.000 unità, perché io le dico, le ultime esperienze di Napoli Nord e di Napoli non è che vanno messe delle unità tanto per metterle. Se mi assumessero domani mattina come portantino all'ASL, io forse non saprei da dove iniziare. Dici, vabbè, ma tu sei laureato. Sì, ma sono laureato in legge. Non è che posso sostanzialmente andare in un ospedale e avere delle competenze. Sono arrivati poverini, genti che facevano i barellieri alla Croce Rossa, dei volontari, voglio dire, fino a qualche anno fa, assunti poi, non si sa come, in vari enti, in vari concorsi, e si ritrovano negli uffici giudiziari. Buttati lì alla men peggio e si salvi chi può, insomma, voglio dire. Questa è la verità. La situazione è difficile poi, però, si legge che il Presidente della Commissione Antimafia, che risponde al nome di Nicola Morra, Grilino, dice che il problema è che siete voi avvocati. Troppi avvocati creano un problema al mondo della giustizia, al macchino della giustizia. Guardi, che Nicola Morra non sia nuovo a messaggi di tipo populista non in qualche modo mi meraviglia, perché fa parte di un metodo, che è il metodo di parlare alla pancia della gente, il metodo di parlare attraverso gli spot, il populismo, e di non conoscere a fondo assolutamente che cosa sia un tribunale e quali siano i problemi della giustizia. Gli avvocati che sono, in Italia sicuramente andrebbe fatto in altra sede una seria riflessione sulle modalità di accesso alla professione, sul premiare la qualità dell'avvocatura, ma non è quello l'unico problema del mondo giustizia. Il problema della giustizia in tutta Italia, attualmente, ad esempio, intanto per dirne una, noi ci muoviamo in una situazione in cui vi è una normazione privata, una sorta di accordi che vengono fatti dai capi degli uffici giudiziari con i singoli consigli dell'ordine, con i singoli camere penali, con altre associazioni forensi presenti sul territorio, quando poi il governo ignora completamente che in pieno lockdown si erano sdoganate, a nostro avviso, delle modalità che potevano accelerare, parlo del processo penale telematico solo per i depositi, potevano accelerare assolutamente la velocità non soltanto del deposito degli atti, ma poi anche contemperare delle esigenze di tipo sanitario che vi sono e sono pressanti e pregnanti in questo periodo. Ad esempio, io lo scorso sabato, partecipando all'orignione dei presidenti delle camere penali, ho personalmente avanzato una proposta che poi è stata raccolta da molti colleghi e mi ha fatto molto piacere. Ho detto, guardate, perché poi sono abituato a parlare in modo molto schietto e diretto, guardate, questo governo ha fatto ricorso alla decretazione d'urgenza su un po' tutti i settori. Ha svuotato completamente ormai negli ultimi anni la funzione del Parlamento. Il Parlamento non ha più senso. Esatto. Nel settore giustizia, dove ad esempio, parlo del penale, sarebbe necessario, a mio avviso, una decretazione d'urgenza per quanto riguarda le modalità di deposito che possano, come non mai, contemperare delle esigenze, lei faceva prima accenno a quella fotografia, di file fisiche che si fanno. Io per depositare un semplice foglio di una semplice nomina, a Taranto, ho qui un fascicolo davanti a me, domani sarò a Taranto, dovrei, devo andare a Taranto a depositare quest'atto, inviarlo al collega e delegarlo fisicamente ad andare a depositare quest'atto. Ma perché non fare, non avviare un serio discorso sul deposito telematico di tutti gli atti e quindi ridurre i tempi, ridurre i costi, cercare di accelerare il processo penale a partire dalla parte del deposito degli atti. Tutto questo non viene fatto perché forse non lo si vuole fare o forse non si ha proprio contezza di quello che si dice. Beh, intanto ci vuole degli investimenti iniziali e poi ci vuole il personale, come starò detto, che si occupi, io non dico in esclusiva di quello, ma comunque parte di quello, che prima sia preparato e qualificato a poterlo fare. Assolutamente sì. Nascono dei mostri e il problema nasce proprio tutto da qua, dall'organizzazione che in questo momento ci sembra proprio di cui difettare il Ministero di Via Arenula. Boh, speriamo che le cose un po' migliorino. Io pensavo di... Intanto i suoi collegamenti sono sempre scoppiettanti, eh, Presidente? Sempre belli frizzanti. Grazie. Mentre sempre un po' è pepe in quello che dice. Io speravo di trovare delle notizie che magari mi contraddicesse, mi diceva, no, ma guarda, ma guardi che quella era una foto spot, quella era una foto... Invece ho capito che praticamente quella era una foto, ma era la punta dell'iceberg, purtroppo. È la punta dell'iceberg rispetto ad una situazione dove, le dico, il Ministro e il Ministero devono dare delle risposte. Lo ribadisco perché è una situazione pronta ad esplodere, sia da un punto di vista sanitario, laddove non si prendono delle precauzioni, e dall'altra parte poi vi sono delle necessità di far funzionare un tribunale. Allora si dica chiaramente, il Ministro dica chiaramente, lo dico attraverso di voi, attraverso ogni canale di comunicazione. Venga a Napoli Nord. L'Avvocato Felice Mbellumo invita il Ministro Bonafede ad Aversa. Io ci sono quasi tutti i giorni in tribunale. Ci sono io e tanti validi colleghi o più validi di me ad aspettarlo e a rappresentargli le esigenze di questi territori. Venga a Napoli Nord, dia delle risposte concrete, dia delle risposte attuali rispetto a dei tempi che noi da tempere ormai attendiamo, e dia dei segnali, perché altrimenti resta solo fumo, chiacchiere e populismo che viene di volta in volta, come dire, buttato lì in pasto agli interlocutori. Quindi, Ministro Bonafede, ha sentito il Presidente dell'Uomo, è benvenuto, sarà ben accolto al Tribunale di Napoli Nord, però porti qualche risposta concreta, perché gli avvocati, i magistrati, i cancellieri e il personale amministrativo del Tribunale di Napoli Nord ha bisogno di risposte immediate e non soltanto limitarsi a dire che questo governo durerà sino al 2023, come ho sentito ripetere e ribadire anche oggi. E' questo il discorso, si pensa solo a questo, si pensa solo a questo e si pensano ad altri temi, voglio dire, io aprirei, ma non è questo forse il caso, un dibattito, voglio dire, perché poi si perdono di vista, e le chiedo scusa se io sono abituato, come dire, a parlare a braccio e a rubarmi un po' di spazio e tempo, però si perdono di vista poi delle riforme che vengono, come dire, passano sotto silenzio, cioè la riforma sulle intercettazioni che è passata così, non se ne parla in Italia, voglio dire, se non incidentalmente per quello che inizialmente è capitato ad uno dei componenti della magistratura, e per cui qualcuno, voglio dire, ha sentito di che cosa siano i Trojan, di come funzionano i Trojan, di quello che ci aspetterà, la perdita totale delle garanzie, ma non per l'avvocato Felice Bellumo, ma per il cittadino, che è questo quello che mi preoccupa, e su questo non vi sono risposto, non vi è un confronto. C'era un articolo bellissimo di qualche giorno fa, mi pare, sul riformista, gli intoccabili, chiaramente, parapassando dal film The Intouchable, con Kevin Costner, gli intoccabili, in questo caso, avevano il volto di magistrati ben visti dalle parti di Via Renula, insomma, quindi magistrati particolari. Ma guardi, io non sono abituato a puntare il dito nei confronti di nessuno, però è indubbio che viviamo in un momento in cui la spettacolarizzazione, anche di certi metodi, di fare giustizia in Italia, è giunto veramente il momento di sedersi e confrontarsi rispetto a questi metodi che sono stati nel corso degli anni sdoganati. Sentivo questo incidente, ma lamentarsi qualche giorno fa, giustamente un magistrato, in ordine al fatto che, erroneamente, era stata utilizzata la sua immagine rispetto ad un altro magistrato che era stato condannato. Mi è dispiaciuto molto, però mi ha fatto riflettere questo suo rinzelarsi, perché sa quante volte capita al Tizio Caio, al Giovanni Rosso, a Pasquale Piscopo di turno, e di cui, poi lì, nessuno ne parla. E quindi sarebbero tanti i temi su cui confrontarci, e quindi siamo ancora invece qui a parlare di spazi, di aule, di risorse che non abbiamo. Eh sì, appunto, all'alba quasi del 2021. Grazie, felice bell'uomo, presidente. Grazie sempre a voi. Grazie sempre a voi. Buonasera. Buonasera.